Buongiorno a tutti, oggi vi andiamo a presentare la Relain Fares R29. È una motocicletta MotoGP scala 1.25 dotata di batterie e polimeri litio ricaricabile con un telecomando 2.4 proporzionale con velocità variabile. Questa motocicletta all'interno ha un giroscopio che permette di far andare la motocicletta come una vera. Può andare dagli 8 ai 12 minuti con la carica, ha un caricabatterie con USP e si ricarica intorno ai 15 minuti. Vi faccio vedere come funziona. Accendiamo la moto tramite il micro switch, si accendono le luci, si poggia sul safe card, si accende il telecomando e si aspetta la connessione, cioè il binding vero e proprio. A questo punto la moto è pronta, questa è il regolatore di velocità, eccola qua. Si possono giocare 25 moto tutta assieme, colorazioni a ragione e blu, velocità fino a 20 km orali. Tempo di gioco dagli 8 ai 12 minuti non interrotti. Moto GP Railline R29 Grazie